buonasera ragazzi facciamo qualcosa di divertente facciamo una unpacking della aya che piove un po che sta facendo ha lanciato sul mercato l'albume d'uovo già sodo andiamo a vedere di che cosa si tratta apriamo subito faccio tutto con una sola mano scusatemi bello carico di proteine già pronto vediamo un poco non so se riusciti a leggere 11 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto uova 100 per cento italiane un packaging eccolo qui scusate so con una sola mano veramente è difficile mi devo attrezzare con un supporto eccolo qui nuovo solo andiamo ad aprire voglio appoggiare la camera in modo che possa usare tutte le mani ok non ci riesco vado ad aprire ecco qui sta aperto scusatemi per la qualità del video ma alla fine quello che conta è vedere come esce all'interno ecco qui esce praticamente una sorta di salsicciotto odora di uovo di albume d'uovo cotto esce a forma di salsicciotto 170 grammi ecco qui scusate praticamente come un salame 170 grammi da affettare e mangiare condire con olio pomodoro come volete voi da mettere in insalata lo affettate è tenerissimo lo affettate ed è pronto da mangiare bene buona serata a tutti e buon appetito